Non sarà un buon Natale per i dipendenti del petrolchimico di Gela. Leni ha infatti comunicato col parere contrario dei sindacati che del 1 gennaio modificherà il proprio assetto organizzativo, portando gli organici dagli attuali 550 dipendenti e 400 stabiliti con il protocollo d'intesa del 6 novembre 2014, in funzione della concordata riconversione dell'attività di raffinazione petrolifera attraverso la nascita di una green raffinerie per la produzione di biocarburanti. Le segreterie di Filctem CGL, Femca Cisle, Wiltec Will sono pronti a dar battaglia e hanno convocato per martedì 29 dicembre una riunione straordinaria e urgente nel Consiglio dell'RSU delle aziende Eni operanti nel territorio per decidere le opportune azioni di sciopero anche alla luce delle difficoltà di ricollocare altrove in tempi brevi 150 esuberi ed evitare l'eventuale ricorso alla cassa integrazione. I sindacati in una nota puntano il dito contro l'azienda che adotterebbe decisioni unilaterali che mettono in discussione le relazioni industriali in atto, aprendo scenari di coinvolgimento già di difficile gestione nel territorio e che fanno sorgere innumerevoli difficoltà sia in termini di operatività che in termini di gestione delle risorse.